Allora che sarebbe stata una partita aperta a qualsiasi risultato lo si sapeva già dalla gara di andata riavvolgiamo un po' il nastro anche perché sicuramente il ministro della Sabina Lazio Calcetto all'andata aveva già espresso un buon parere su questa formazione lo ha ripetuto anche quest'oggi poi però la vittoria sarà porta a casa la Sabina Lazio Calcetto Allora buonasera a tutti intanto la Coccinella sta facendo un grandissimo lavoro devo dire è una sorpresa perché è una neopromossa quindi sta sorprendendo tutti è arrivata a giocare le Final Four la Sabina con 10 anni, questo è il primo anno che fa la Final Four quindi onore alla Coccinella onore anche per questa partita è stata una partita molto equilibrata è studiata molto bene anche da entrambe le formazioni abbiamo trovato una squadra molto organizzata in fase difensiva è stato difficile comunque sia creare buone occasioni da gol per fortuna il risultato è stato dalla nostra soprattutto poi era difficile stare sulle gambe anche perché il sintetico, la partita lo ricordiamo è stata sospesa per la pioggia incessante addirittura anche la grandine riavvolgiamo ancora anche il naso con la Sabina Lazio Calcetto perché si è freggiata di un importante trofeo almeno il primo stagionale che è quello di aver alzato la Coppa Lazio di categoria avete affrontato la Vis Viraco se non andiamo errati l'avete battuta e poi voi in finale avete detto anche la vostra però è stata una bella kermesse come lo è ormai da diverse stagioni è stata bellissima, non c'era nulla di scontato anche perché la favorita comunque era the best ha vinto la Sabina che comunque noi tutto pensavamo tranne che andare lì e vincerci questa Coppa è stata una sorpresa bellissima è stato il primo trofeo della stagione ma il primo trofeo in assoluto nella vita di questa società che è la più longeva del campionato regionale quindi è ancora più bello aver portato a casa questo trofeo adesso sarete chiamate comunque a difenderlo anche al di fuori della regione sì, è uscita la Puglia e ancora loro devono giocare ancora la finale la loro Final Four perché per la neve hanno rimandato la partita e stiamo aspettando la nostra avversaria con ansia benissimo, grazie a Scattone del suo tempo che ci ha dedicato noi la salutiamo anche per la clemenza soprattutto perché comincia a calare un po' il freddo la buona serata e ci trasferiamo a Miccio è una delusione, rimane molta delusione però nelle due gare comunque non avete sfigurato no, no, assolutamente anzi forse la gara è andata potevamo ricriminare un po' di più perché comunque era la terza partita eravamo un gruppo che si stava assestando oggi l'abbiamo preparata bene forse l'unica cosa su cui ci possiamo rammaricare sono gli infortuni ecco, a proposito di infortuni ti abbiamo visto un po' claudicante in alcuni tuoi scatti che sono soliti farsi però quest'oggi ti abbiamo visto un po' stanca no, in realtà sono abbastanza fortunata ancora quindi ho provato in teoria non dovrei giocare però siccome anche D'Alessio settimana scorsa si è fatta male siamo un po' ridimensionate nel numerico questa era una partita troppo importante ci ho provato so che non ho dato il 100% per questioni fisiche però secondo me non abbiamo demeritato anzi il primo tempo abbiamo fatto un grandissimo primo tempo ci siamo chiuse bene abbiamo fatto il nostro gioco siamo stati calmi dietro purtroppo gli episodi non sono stati a nostro favore comunque loro sono una bella squadra stanno puntando comunque ad andare oltre adesso però si punta soprattutto a recuperare questi infortuni almeno quelli vostri non quelli dell'Inda D'Alessio perché l'abbiamo detto a inizio di cronaca ne avrà almeno per qualche settimana senza dubbio lei dovrà star ferma un po' di più l'aspettiamo per i playoff però d'altronde quindi va bene così nel frattempo stringiamo i denti un po' tutte a giro e cerchiamo di mantenere le nostre posizioni ai piani alti e penso che se continuiamo così siamo una bella squadra tocca solo stringere i denti